Gentili telespettatori, buona giornata. E ci siamo. Domani, 27 giugno, si svolgerà l'udienza del processo che vede imputato a Roma lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, accusato di diffamazione e calunnia aggravata a mezzo stampa nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Qui non si parla di solo diffamazione, ma di diffamazione, insulti e calunnie aggravate dal mezzo stampa. In un intervento televisivo a Piazza Pulita sulla 7 nel dicembre del 2020, Presidente, guardando un video aveva cominciato a dire parolacce e accusare di crimini Meloni e Salvini. Meloni subito denuncia, Salvini no, lo fa dopo, il giudice dice no, adesso non si può, allora Salvini dice mi metto come parte l'esa a fianco della Meloni e il giudice dice no, è troppo tardi. Quindi questo inizio di processo e di querela, denuncia da parte di Giorgia Meloni comincia nel dicembre 2020 quando non c'era nessun governo Meloni, quindi a tutti quelli che starnazzano dicendo che un Presidente del Consiglio non può denunciare un giornalista, è una roba che non si fa, è una roba che non sta né in cielo né in terra, che un Presidente del Consiglio denunci un giornalista. No, questo risale a dicembre del 2020, quindi muti, prima di parlare, accendere il cervelletto, prima di parlare, avanvera, sapere le cose, bene. Il processo poi inizia a novembre scorso, ma senza la convocazione in tribunale di Giorgia Meloni. Perché? Perché non c'è bisogno, c'è una trasmissione televisiva dove si vede le offese, gli insulti e si sente Saviano e si vede additare Meloni come responsabile di un crimine. Quindi qui si parla di, non di diffamazione, quando tu dici che una persona ha commesso un crimine senza averlo fatto è calunnia aggravata dal mezzo stampa, dalla diffusione. Quindi con molta probabilità vedremo quanti mesi di reclusione il giudice darà allo scrittore, per non parlare dei soldi che dovrà pagare, i soldi che dovrà pagare a Meloni più quello che deciderà il giudice e gli avvocati dovrà pagare i suoi e quelli della Meloni. insomma. Quindi con molta probabilità diventerà un pregiudicato con dei mesi di reclusione e dovrà pagare un sacco di soldi. Dopo aver deciso di querelarmi, dice lo scrittore, non accetta il confronto nella stessa sede in cui lei mi ha portato, preferendo fare i processi nelle feste di piazza, in televisione e sui social media, ovunque tranne che in tribunale. Così lo scrittore affida le sue parole a un lungo video. Caro scrittore, non c'è bisogno che la Meloni perda tempo per venire in tribunale a fare che? C'è un video, la testimonianza della Meloni non serve a niente. Queste cose lui le ha dette in televisione, in un programma televisivo in prima serata. La Meloni non deve andare in tribunale, prima di tutto per non perdere tempo con una persona del genere. E poi hai diffamato, insultato, calunniato a mezzo stampa. La legge italiana è molto dura su questo, attenzione, è molto dura su questo. Pertanto qui non c'è nessuna intimidazione a nessun tipo di giornalista, c'è un scrittore che calunnia di fama e insulta un'altra persona, indipendentemente che sia un politico o una persona qualunque e dovrà risponderne davanti alla legge, sperando che quella legge che sia lì a dover giudicare sia, diciamo, come possiamo dire, assolutamente imparziale. Voi sapete, capisce a me, capisce a me. Il processo si è aggiunto anche il tentativo del Ministro delle Infrastrutture di aggregarsi alla denuncia di Meloni, volendo, come vi dicevo prima, voleva costituirsi parte civile, ma il giudice ha rispinto la richiesta, non potendosi ritenere l'On. Salvini danneggiato dalla stessa condotta che vede l'On. Meloni come persona offesa. Allora, il fatto è questo, o Salvini, visto che è stato le stesse cose Saviana le ha detto per la Meloni e per Salvini, una cosa però è la denuncia fatta da Salvini per le offese, la calunnia, una cosa è mettersi parte civile con Meloni perché il giudice dice, una cosa è l'offesa a te, ma se tu ti metti parte civile con Meloni, l'offesa a Meloni non è riconducibile a te Salvini, dovevi fare una denuncia tua, non aggregarti a quella della Meloni, perché anche se lui ha detto le stesse cose, una era contro Meloni e una contro Salvini, quindi viene respinta per un fatto proprio tecnico. Trattandosi, dice il giudice, di condotta riferibile a lei sola, respinge così l'istanza di costituzione di parte civile nel procedimento. Saviano poi sarà presentato davanti al Tribunale di Roma per un altro processo che lo vede questa volta imputato con l'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini per dei post pubblicati sui social nel 2018, ma anche in questo caso Salvini ha preferito disertare le aule del Tribunale e così il processo è slittato all'udienza del 7 dicembre 2023. Qui Salvini non si è presentato perché aveva degli impegni istituzionali ed era impossibilitato a presentarsi, non presentandosi in questo caso, era assolutamente necessaria la sua presenza, non presentandosi in questo caso il processo è slittato al 7 dicembre del 2023, quindi finiamo proprio a Natale di quest'anno. Dice Saviano, oggi mi difendo dal Vice Presidente del Consiglio mentre ho un processo in corso con la Presidente del Consiglio una causa civile intentata contro di me dal Ministro della Cultura. Tra i ministri di uno stesso governo portano in Tribunale chi osa criticarli. No Saviano, chi offende calunnia e insulta, non chi critica. La critica è una cosa, la calunnia è un'altra. La critica è possibile in Italia, Paese democratico, la calunnia finisce per vie legali. Così è la legge, così è la civiltà di un Paese. Arrivederci a tutti e grazie.